Ti sento bene, se t'hai sempre da cucina l'acqua! Niente buono! Che sei andato a spussarla? Tu sei andato buono! Le passano uomo! Sì, tu sei andato buono! Non ho visto mai tenuta! Quanto tempo? Viene, bravo, viene! È un po' di la bambina! È un po' di la bambina! E invece la stessa! Noooo! Se l'ha giurita tante volte, tua magine non la sai portata! Tu non ti abornettere! e ti metterò in una macchina, capito? Tu non ti devi permettere! Te l'ho detto tante volte, tu non riesci a fare servizio con la macchina! Ma tu manca a pena! Stata zitta non parlare! Quando tu vieni e ti dici a me devi uscire con la macchina a fare quel servizio. Io che cosa ti ho detto? Non c'è andare, non c'è andare! Fallo un altro giorno! Vai, preferisco tu! Stata zitta! Non c'è nulla a fare! Che farlo a fare? Non c'è niente! Dico io! Ma come si va a fare con la macchina? Non lo so! Fai zitta! Zitta! Neanche l'indale dell'andrino in macchinina tozzitutto sei tu, capito? Manco là sei andata! Mannaggia, mannaggia! Ma come faccio? Guardatelo po', guardate! Dico io! Dico io! Tu sei un incapace, sei un inetto! Hai capito? No, non ne hai capito! Perché non c'è neanche quello che significa, capito? Inetto! Perché io non so come faccio definire a sé, perché tu non sei definibile! Tu ti ha statito! Ti ha statito! Ti ha statito! Ti ha statito! Hai capito? No! Non ne hai parlato! Non devi parlare! Mannaggia, mannaggia, mannaggia! Non dicere niente! Non devi parlare! Non devi pepettiare! Non devi dire una sola parola! Dico io! Dico io! Non potevi evitare questo fatto! Non lo potevi evitare! Ti sforzavi! Tu ci pensavi un poco sopra! Ci riflettivi! Invece no! Invece no! E va a fare quello che è... E va a scicare la macchina! 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 Se potevi prendere un pulmone! Perché giustamente gli dici che si prendeva un pulmone! No! A scicare la macchina! Oh, mannaggia, mannaggia! Mamma mia! Ma tu vieni tu poco quello che è successo stamattina! Io non lo so neanche come farò! Come farò a giustificare! Non lo so! Leona! Ma stai facendo tucca tutte le nervo! Hai capito o no? Staccati! 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 A me mi era fastidio quando stai così! Ma tu hai scocato la macchina! Leona! Ricevo qualcosa! Valla! Staccati! Non valla! Staccati! 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 Chi è l'uomo tramite te? Guarda, ma non l'uomo! Le assassini! Prego, accomodatevi! Ma cominci una volta a fare spiritoso! L'uomo sono chi? Guarda là, ci stanno in giù! Basta! Ma insomma, posso far spiegare se tu hai fatto l'incidente signora? No! Ne parla! Ah! L'incidente è successo! Quando mamma ti l'aveva fatta! Lo sapevi che ci l'aveva fatta! Annoretti, non aveva fornito le facce, non aveva faccio le pacche! Guarda, mi devi... Basta! Eh che! Io ti volevo spiegare il fatto dell'incidente! Quello è... Allora, il stefino da mangiare una femmina, quando la guardia è giurata! La giurata? No! Il stefino da mangiare una femmina, quando la guardia è giurata! Che ha giurata? No, non ne guarda nessuno, Annoretti! Ma tu sei la guardia è giurata? Si, perchè il stefino da mangiare... Una giurata? Ma non lo so quando la giurata è giurata! Ma tu sei la guardia è giurata? E quando hai giurata? E quando sei finita la macchina la guardia è giurata! Ah, quando sei finita la macchina non sei la guardia è giurata! E quando sei la guardia è giurata, la guardia è giurata cosa? Eh, ma si peggia Leonardo! Lo vigilante voglio lì, ce l'hai capito? Il stefino da mangiare, lo vigilante mi è venuto un cuore! Ma chi ti ha giusto un cuore a te? Chi ti ha giusto un cuore? Ma chi? Mi avevano giustato, già stato accaduto! Mi avevano giustato, mi aveva già affaticato, per i mevi sopra lo stava facendo! E ma ci mettiamo d'accordo, di questo diceva Annoretti! Certo! Giustamente, quando viene Ernesto? Eh, ma quando è l'altro che stava niente? Eh, scusate ma... Ma fai la lettera e l'ho andata a mio amico! Eh, ma io non ci capito, vai presto la lettera... E non ci capito, ma io... Ma non ci capito, ma che fai già passare la lettera a voi? Vuoi fare la lettera a me? E non ci capito? La lettera? Eh, una cartulina! Una cartulina! Una cartulina! Un messaggio con il tuo telefonino! Ho messaggio! Eeeh! 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 Eeeeh! Ecco, spiegiamo la dinamica dell'incidente, non? Eeeh! 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 Grazie a tutti.